Salve a tutti ragazzoli cari, bentornati a un'altra mirabolante puntata di Barbaroffa. Stiamo continuando a giocare ad Oddworld New and Tasty per PC. Che bello questo gioco, il remake di Oddworld Apes of the Z. Bello, 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 davvero molto molto bello. Abbiamo superato la parte della fuga dai mattatoi Ernia e qui siamo nei luoghi sacri dei Mudokon. Bene, qua mi sa che ci ritornerò, quindi dobbiamo andare da quest'altra parte. Giusto? Giusto, amici miei cari. Stavo per morire, ma tralasciamo questa piccola informazione e voglio sottolineare che è essenziale bere almeno due litri di acqua al giorno. Quindi io adesso bevo. Scusate, avrei dovuto bere prima, ma ho la gola secchissima e non riesco più a parlare. Forse è meglio che io smetta. Continuiamo con più foga e ardore di pria. Bene, dove andiamo? A Paramonia o a Scrabania? Qui dovrò sicuramente tornarci dopo che... Dopo che avrò preso i poteri. Dormi tranquillo, brutto Sleek che non sei altro, perché quando torno ti rompo ukulu. Facciamo Scrabania, che è un po' meno speculativo, un po' più diegetico, un po' più di azione. Non ce ne frega delle introduzioni. Non abbiamo bisogno di ulteriore intrattenimento. C'è lo zio Barbaroffa che ci intrattiene così bene che... Cosa? No, scusa. Niente. Stai parlando con me? No, non io. Ok. No! Ok. Cattivissimi, fra l'altro. Mai quanto me. Jalabula. Non so cosa fosse, però... Posso, posso, posso saltare? Sì. Tutto automatico. Bene, questa parte sta andando avanti abbastanza bene. Ora, ora, ora. Dove vado? Dove vado? Vado... Vado... Voglio rovinarmi proprio. Vado di qua. Ecco là, lo sapevo, proprio... Ah, invece ho fatto bene. Tac. Sono sicuro che non state seguendo quello che sto facendo, ma... La mia intelligenza superiore... Ha! Adesso canto... E mi in possesso di te. Tutto, tutto, tutto. Tutto bene, frate? E... Boom! Eppur mi sono in possesso di te. E... E... Sentite com'è dolce questa campana. Aristonghi. Ari... Boom! Ed ecco il nostro amicissimo puzzone come noi, che possiamo cavalcare per arrivare a nuovi orizzonti di avventure. E che bello vivere. Ok. Salviamo e... Jumpiamo. E da tanto tempo che non lo facciamo. Saltiamo. Secondo me lì potevo scendere? No. Non potevo scendere. E che secondo me qua hanno nascosto qualche zona segreta. No, non l'hanno nascosta. Tipo qualche... No. Vabbè. Scusa. Hai vinto tu! Sei meglio tu! Facciamo tutto quanto... Veloce come piace a voi che vi piace l'azione e spam, e spapim, e sparabim. Quante... Quanta coordinazione! Eh ragazzi? Tutte insieme. Vediamo. Saltiamo. E da tanto tempo che... Non lo facciamo. Ok. Scendiamo giù come se non ci fosse un domani. Ciao, frate. Ciao, frate. Questa è una delle cose più strane che vedrete al mondo. Però, ve lo ripeto, se uno sconosciuto vi saluta e inizia a fischiare e a scorreggiare, imitatelo, in realtà vuole solamente darvi dei poteri per poter eliminare delle bombe. Tutto sotto il controllo. Belle queste ombreggiature, tutte scorreggiose, pixelose. Eh... Vieni qua. Vieni qua perché lì ti vedo e ti piango. E... Ok, abbiamo distrutto tutto il distruggibile. Vabbè, ta 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 ta. Vediamo un poco. Ciao. Eh... Era. E vai. Yuppidu. Yuppidu. E adesso... Ma mi sa che forse è meglio... Meglio se ti risalgo in groppa. Tu che dici? Ehm... 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 Tempismo un pochino sbagliatino. Tu tu tu... Tu tu tu... No, 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 no. Che vita di merda. Non aveva... Eh, porca vacca. Ce la possiamo facciare. Ho tutto posto. No, no, no Così non va Così proprio Non puoi Non puoi proprio Vai, volevo farlo tutto insieme Ma mi son dovuto fermare Eh, va bene Risaliamo Salviamo la pautita Che bello grattarsi la fronte Dopo questo simpatico ristoro analogico Possiamo proseguire E questo puzzone non vuole fare altro che mangiare il miele Quindi dovremmo stimolarlo A cambiare idea Insomma Dovremmo distoglierlo dal miele Qui chi c'è? Ciao Non la so Non la so, vabbè Ok Continuiamo nella nostra ricerca Mamma mia Quanta cruenza Ok 2, 2, 1 Va bene Ok E ora Cattivissimo Cattivissimo No dai Forse me la ricordo Ciao Ok Bene E vai Ognuno ha il suo modo di cantare Che bella cosa Facciamo esplodere queste cose antipatiche brutte Ah sì Aia Brutta mazzata Ok Andiamo a cercare delle api Vero Nicolas Cage? Mi dispiace Elum Ma te la sei cercata Basta leccare That's what she said Haha Che vita di merda Allora Elum Ti sei deciso a non mangiare più miele? Ecco Bravo Era ora Corriamo Come se non ci fosse un domani Mio piccolo Grande amore Che palle Ah Ah No niente Nel successo niente Bella idea quella di cantare per distrarli Ciao Vaffanculo Non potresti darmi una mano e basta Sto solamente cercando di evitare un genocidio No E' molto più importante sentire strane che ti fischiano e ti scorreggiano in testa Piuttosto che evitare dei genocidi e delle macellazioni e così No vabbè ok Basta sapere le proprie priorità Chi sono io per giudicare no? Beccati questo Mina Poteva andare molto peggio Ok Oh Bene Ho tirato quasi a indovinare Non me la ricordavo davvero più Malissimo Vaffanculo Mine Orribili Adesso io vi Uccido E vai Oh ci siamo quasi uccisi a vicenda Wow Però devo dire che sono stati molto ingegnosi inventarsi sta carrucola con Con dei massi E' molto anche pratico devo immaginare Non vorrei essere il tipo che ha dovuto installare il tutto Ok Cosa devo fare adesso Eh Allora Doc cosa vuoi che faccia Qualsiasi cosa Ups Madonna che morte orribile Proprio brutto Niente questo qua è abbastanza rincoglionito che Ah forse ero un po' troppo lontano Bene Adesso cadi Niente Lui sulle mine non Non caduto indietro Va bene Allora si vede che Abe Si vede se è l'unico stronzo a Esplodere con le mine Magari è un attacco che fa reazione con il gas che hai nell'intestino Ma perché Perché Quello la mi doveva sparare Che cosa dovevo fare Dovevo allestarmi forse Dovevo fermarmi mentre tutti mi sparavano Ah dovevo saltare Ok Altro pro tip Quando uno vi spara addosso Saltate E di modo che è più probabile che sbagli la mira Oh no Oh no Madonna Madonna Che 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 macello Bene Continuiamo Continuiamo Rimani qui piccolo amico Vado in avanscoperta a vedere quello che succede No 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 Salvo E Saltiamo No E' stato una cattivina A saltare a cazzo di cane Tututum Tututum Tutututum Non saltare a cazzo di cane Tutututum Salta con criterio E questa volta E' stato un po' cattivo da parte degli sviluppatori Fare quel saltino lì che ti devi fermare Ah belli Io sono cresciuto in Molise Mica cazzi Oh no Ok Ok Poteva andare molto peggio Ma grazie alla mia perizia Psichiatrica Posso Sfuggire dal pericolo Immagino Caro Ti ho portato la colazione a letto Vediamo Pam Una botta Ti risparo Vabbè Sai che c'è Oh Molto bene Stavolta Decido di esplodere Lo slig A contatto con la mina Ah va bene L'importante E' che nel momento opportuno Le cose siano andate per il verso giusto Ah quello era per far esplodere il dispositivo di esplosione attivabile Va bene Oh oh Scusa Che cosa dovevo fare? Mi sono fatto prendere dal panico Vabbè Vediamo cosa Ma che figlio di sultana Ah ha senso Aspetta qui Elum No Vaffanculo Tornate a dormire ragazzi Non è successo niente Sì ok Ti pagano Però ora Torna a dormire Anzi Fotti il sistema Che ti addormenti Non guardare in basso Non guardare in basso Vai in avanti Salta lì dentro Oh cazzo Non si è accorto di niente Nessuno Va bene così Va bene così Anche qui Se volete fare una Oh shite Se volete fare una bella Gita con la vostra ragazza Andate su Groupon E beccatevi un weekend alle 5 terre O qualcosa del genere Non andate a Scrabania Perché il rischio di morte è parecchio elevato Ciao Che cosa succede se tiro questa leva? Succede questo? Ah molto bene Vaffanculo Vi faccio Sparare A Vicenza Che carnage Che il carnage Vabbè Anche tu sei morto In una posizione molto autoerotica Cazzozzone Ma perché non mi Non mi fa Non voglio accovacciarmi Voglio solamente tornare dal mio piccolo Amico Elum Per solcare Nuovi orizzonti Di avventure Non viste Mai dette Mai esplorate Ok Elum No Non dirmi che ti devo salutare Farewell Elum Addio Elum Ti ho voluto tanto bene Fai conto che ti abbia baciato E su questo Addio Struggente Struggevole Struggelente Struggelevole Ed è su questo addio Che io No Vabbè Facciamo che vi saluto qui Che è più tranquillo Vi saluto Ragazzuoli cari Ci vediamo Ad una prossima Meravigliosa puntata Sempre con il vostro Amico fraterno Barbaruffa E con Oddworld New and Tasty Che gioco fantastico Lo sto adorando Sempre di più Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi